sono venuto qui nel negozio di bergamo proprio per non subire quei bulletti dispettosi e ironici eccoci qua no anche qui siamo venuti a vedere il punto vendita di bergamo via fangiorgio anche qui tantissime offerte su divani poltrone letti vedi materassi correte da san gretti salotti a bergamo in via san giorgio o alla sede di cazzago san martino sempre con loro a che fare